allora intanto grazie a tutti per essere arrivati qui siamo ad un'altra conferenza della virtual world story con 2024 abbiamo con noi Francesca Garello poi ci raggiungerà Andrea Andrea Angiolino una conferenza la storia e la fantastoria terre parallele, legioni arcane cavalieri perduti nel tempo intanto che aspettiamo appunto che arrivi il nostro Andrea che poi inviteremo qui a parlare, volevo presentarvi Francesca Garello eccoci qua se vuoi appunto intonarti un po' ai nostri amici che sono qui con noi li introduco da sola buona sera a tutti sono molto felice di essere qua e io sono un qui in qualità di credo immagino autrice e anche vestale dell'ortodossia questo è il mio titolo ufficiale ah questo è il tuo titolo di Lex Arcana me lo sono attribuito da sola però secondo me ma è bello crearsi degli universi per attribuirsi i titoli questa cosa mi piace io sono la vestale dell'ortodossia e ho anche un alter ego diciamo nel mondo del gioco che è la bibliotecaria arcana che è un personaggio diciamo minore mai sviluppato in realtà ma che pure esiste nel mondo di Lex Arcana e che è colei che scrive tutte le storie di Lex Arcana e quindi diciamo sono la vestale dell'ortodossia quando sono fuori dal gioco ma dentro il gioco sono anche Flavia Gallia scolastica la bibliotecaria arcana e quindi guarda un po' che confusione oltre che oltre che nel mondo reale Francesca Garello nel mondo reale Francesca Garello esatto io sono un'archeologa classica di formazione e questa cosa in realtà è venuta dopo che io diventassi una accanita giocatrice di ruolo quindi prima giocatrice sono diventata prima giocatrice di ruolo poi dopo mi sono laureata e a quei tempi molto antichi perché io sempre in roba antica mi occupo sono anch'io arcaica e l'unico gioco diciamo di ruolo diffuso in Italia era Dungeons & Dragons e io sono una di quelle che ha cominciato con la scatola rossa e ha fatto tutto l'iter proprio attraverso questo gioco di nuova introduzione addirittura ai tempi nostri quando abbiamo cominciato io, mio fratello e i nostri amici giocavamo solo con materiale in inglese perché in italiano non c'era nulla e mio padre però fortunatamente era un pilota dell'Alitalia e quindi andava in America molto spesso e ci riportava i manuali di gioco e tutto il materiale che ci serviva e quindi io non mi vergogno di dire che ho imparato l'inglese sui manuali di Dungeons & Dragons io l'ho imparato sui regolamenti dei work game della SPI quindi non c'è non c'è problema infatti ho imparato anche terminologie piuttosto strane diciamo però nella vita normale magari tipo non so spellcaster che magari nella vita di tutti i giorni non ti serve tanto però io invece sapevo queste parole strane e poi mi laureai a un certo punto e le due cose si sono in qualche modo intrecciate perché la mia tesi di laurea era l'oggetto della tesi l'anfiteatro Flavio che è il più grande edificio di gioco dell'antichità ecco è arrivato anche Andrea mi sa che oh ci sei eccolo eccolo qua eccolo qua no fantastico comunque stiamo parlando del fatto che Francesca aveva imparato l'inglese prima sui GDR io l'ho imparato con gli SPI quindi a nove anni ero perfettamente capace di ordinare una carica di cavalleria o bombardamenti ieri avevo problemi a chiedere l'ora però a parere questo fantastico fantastico di gruppe dei giorni della settimana infatti infatti Andrea Angiolino è arrivato con noi anche lui designer autore di 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 giochi e autore di qualsiasi cosa quindi io sono sto presentando due persone che sono ben note nel mondo nel nel mondo nel mondo del gioco e anche nel mondo accademico quindi ovviamente niente da dire e li abbiamo invitati per parlarci di una cosa veramente strana ok particolare strana anche in questo contesto di quest'oggi la convention storica di gioco storico uno pensa tante cose rigorosissime mentre invece ci parlate appunto come autori pur essendo degli accademici come autori di giochi che sono ambientati in quello strano universo che è la fantastoria l'abbiamo voluta chiamare così francesca garello per l'ex arcana andrea angiolino anche per l'ex arcana perché anche lui è lavorato l'ex arcana ma prima di allora cavaliere del tempio e poi avremo modo di parlarne io ricordo anche la prima mi piace ricordarlo una persona che magari sarebbe stata qui con noi oggi se fosse ancora con noi cioè agostino carocci terre parallele e io ricordo il fatto con senza acqua e altri amici romani catacumbas meraviglioso gioco di ruolo in cui che si svolgeva in una in laizia che era l'anagramma di una italia alto medievale con ovvi rimandi anche all'immaginarium dell'italia alto medievale quindi un'operazione estremamente interessante ecco io vorrei cominciare con questo cominciamo con con andrea poi dopo francesca eccetera storia e fantastoria ci abbiamo una definizione di questa fantastoria perché voi l'avete esplorata con i giochi con i giochi da tavolo con i giochi di ruolo eccetera cioè questo momento in cui fantastico e storia si vengono un po' a intrecciare andrea cominciamo a te tu ce l'hai una definizione di fantastoria forse una definizione rigorosa no posso raccontare appunto quello che è successo nel senso che intorno al 90 abbiamo fatto questo cavaliere del tempio è uscito proprio a dicembre 90 in cui ci siamo dati da un lato l'idea di un rigore storico perché nel gioco di ruolo siamo nel medioevo italiano poi rinascimento l'idea era dei viaggi del tempo poi di espandere li si è fatto anche se un po' limitatamente e quindi tutti gli eventi luoghi eccetera sono quelli veri si incontra Dante Alighieri si incontra Cristoforo Colombo però è una storia in cui noi siamo templari ci sono dei corti esoterici e addirittura sono veri alcuni poteri sovrannaturali alcuni demoni alcuni mostri che sono quelli creduti veri all'epoca questa è un po' la chiave per lo meno che abbiamo dato alla fantastoria nei Cavalieri del Tempio l'immaginario esatto poi c'erano due giovani collaudatori tester di questo gioco Maggi e Nepitello di Venezia che giocavano con Luca Giuliano qualche anno dopo hanno avuto l'idea di trasporre tutto nell'impero romano ed è venuto l'ex arcana in cui appunto siamo in un impero romano che non cade perché c'è la magia e poteri di divinazione poteri delle rune germaniche evocazioni delle folghe etrusche mostri e divinità sono quelli creduti veri nell'impero romano con una piccola sottigliezza loro hanno fatto una piccola differenza noi eravamo nel Medioevo vero loro erano in un'epoca in un'ucronica in un mondo parallelo questo consente un pochino ai master magari di pigliarsi qualche licenza e che soprattutto di sentirsi meno intimoriti perché se poi a un certo punto mettono una finestra con i vetri che è un errore storico anacronistico però in fondo non è il vero impero romano possono permetterselo sempre che la curatrice Francesca Garello la custodia com'è la vestale dell'ortodossia non arrivi lì a bacchettarli con un bel esatto quindi in questa chiave forse abbiamo poi iniziato un filone posso citare fra i meno noti sollevante di Eugenio Lauro che è il medioevo giapponese dei samurai eccetera con il fantastico dell'epoca creduto vero bellissimo citare Basic West quando abbiamo fatto per il Basic Role Playing anni 90 due supplementi Basic uno Egitto uno West il West è stato pubblicato così per l'Egitto ci hanno chiesto di aggiungere amuleti e altre cose un po' magiche diciamo è diventato un piccolo marchio di fabbrica perlomeno nel gioco di ruolo italiano non pretendo che sia la definizione di fantastoria universale ma perlomeno è quella che è un po' si è consolidata nel filone noi qui l'abbiamo inteso così oh attenzione io ricordo tu hai citato anche Cavaliere del Tempio mi ricordo discussioni che abbiamo avuto lo voglio solo citare uno scrittore che sempre per parlare di narrazione storica era anche molto vicino al mondo dei Cavaliere del Tempio in parte c'erano state un po' delle sovrapposizioni che un'altra persona che non c'è più che è Franco Cuomo che con Gunther D'Amalfi il ciclo Gunther D'Amalfi Cavaliere Templare che ovviamente anche lì ci sarebbe tantissimo da aprire il suo era un romanzo storico che però aveva elementi anche di sovrapposizione solo che c'era un discorso di una possibile sovrapposizione dell'ambientazione spesso dovevano uscire in contemporanea cercavamo delle sinergie e poi il nostro editore se l'ha presa più comoda eh vabbè peccato perché ecco anche Franco è una persona che se fosse con noi ancora oggi secondo me si divertirebbe molto forse si stava divertendo e noi abbiamo anche voluto poi io lo voglio sempre ricordare anche dedicare a questa convention a due amici invece giocatori che non ci sono più Riccardo Bertone e Falco Verna che ci hanno lasciato nello scorso anno e che appunto però anche loro erano molto erano molto vicini a queste tutte queste commissioni Francesca Andrea ci ha parlato di Lex Arcana e Lex Arcana è fantastoria romana sì no come cosa avete combinato con con Stabenetta e Lex Arcana guarda Lex Arcana è davvero complicata da definire perché le sue caratteristiche principali sono diciamo il rispetto della realtà storica sì e già diciamo introduce poi dei paletti all'interno dei quali uno può non può muoversi ma poi ci ha messo insieme anche l'ucronia e allora come diceva Andrea appunto in realtà è una storia che a un certo punto ha deviato dal corso così come lo conosciamo noi ma è ancora più complicato perché all'origine anche prima di questo punto di divergenza questo è il termine tecnico di tutte le storie ucroniche nel punto di divergenza in realtà parte sì un'altra storia ma non è che quella prima fosse proprio uguale a quella che noi abbiamo letto sui libri di storia perché anche lì c'era l'elemento magico che è quello che gli antichi credevano essere effettivamente magico o comunque fuori dal comune e quindi in realtà anche prima della divergenza il mondo di Lex Arcana è un po' diverso da quello della storia reale ma e qui secondo me è per quello poi che in realtà ci vuole il rispetto della realtà storica muoversi all'interno di un sistema storico vero aiuta anche tantissimo chi scrive a non divagare a non perdere diciamo il punto verso il quale tende perché in realtà la cosa più difficile almeno a me sembra che la cosa più difficile quando si inventa un mondo nuovo è quello di renderlo coerente e questa cosa su questa cosa aveva ragionato parecchio pure Tolkien veramente e cioè perché Tolkien fa l'esempio del sole verde che è una cosa stravagante e lui dice però detto proprio parafrasandolo che si può inserire il sole verde però questo sole verde deve essere coerente cioè deve essere giustificato all'interno di quel sistema mondo e questa è la cosa più difficile un sacco di cose che leggiamo sono potenzialmente delle buone storie però il mondo in cui si svolgono è un po' assurdo questa cosa diciamo si salta più e pari la difficoltà di creare un sistema coerente quando scegli di ambientare tutta la tua storia o il tuo gioco in una realtà storica vera perché lì ci ha già pensato qualcun altro cioè il mondo la storia a creare un sistema di riferimento che tiene perché è tutto coerente con se stesso questo però a volte può sembrare diciamo limitante perché se le cose sono già successe sappiamo anche già come sono successe perché come si fa a metterci dentro l'elemento creativo l'elemento fantastico ecco io penso personalmente che questo è un punto di vista un po' miope nel migliore dei casi è miope nel senso che non si riesce a vedere quali sono le possibilità offerte dalla storia vera e nell'altro caso forse anche un po' un atteggiamento di comodo non volendosi sbattere a inventare cose un po' particolari o a inserire cose particolari ma giustificate si dice ma quanto in quel periodo storico questa cosa non si faceva e quindi io non ce la metto non la considero non la voglio e quindi in realtà la limitazione è comoda qualche volta perché all'interno di quel tuo buchetto comodo calduccio sei sicuro che non devi fare fatica a inventare e invece io in questo ora prendo la citazione cito sempre il più incongruo degli autori relativamente al gioco e alla fantasia e cioè Alessandro Manzoni che noi abbiamo subito a scuola come una condanna senza appello leggendo quello che a noi è sembrato il più noioso romanzo storico del pianeta e cioè i Promessi Sposi in realtà il nostro Buonsera Alessandro aveva capito già come comoda diciamo la questione nella questione di scegliersi un punto di riferimento come si deve fare e allora lui diceva ha scritto in questo lettera a Monsieur Chauvet che era un critico francese che gli rimproverava di aver fatto insomma di andarsi a prendere storie assurde quando invece la maestra di vita era la storia e lui diceva ha scritto non c'è bisogno di inventare fatti poiché nella storia in ciò che gli uomini hanno effettivamente compiuto vi è il più ricco e affascinante repertorio di soggetti drammatici ed è vero cioè la storia dell'uomo è talmente varia e variegata che contiene al suo interno degli eventi delle storie talmente assurde che a noi non sembrano neppure vere e tante volte uno diceva beh questa te la sei inventata no questa cosa è successa veramente ed è andata così eccola in più il mondo è tanto grande spesso a scuola ovviamente ci concentriamo sulla storia europea sulla storia italiana eccetera ma nell'ambito di tutto il mondo le cose che sono successe sono talmente incredibili e varie che andarne a pescare una che pure è vera per usarla fantasticamente si può fare quindi in realtà è per quello che io sono la custode dell'ortodosia dell'ortodosia dell'universo che avete creato quindi di quella storia lì ma l'universo che abbiamo creato che poi l'hanno creato Maggi e Pitello con i De Toffoli tutti insieme tutti insieme ovviamente quell'universo lì in realtà è molto rispettoso della storia vera e proprio perché è rispettoso si tiene insieme perché anche le cose che sono inventate inserite perché sono perché servono anche a dare gioco a rendere l'ambiente avventuroso non sono inventate a casaccio cioè spesso anzi non inventiamo proprio esiste nella storia antica nell'ambiente romano della storia romana una serie di cose che noi a scuola non abbiamo studiato che non arrivano sui banchi di scuola perché sono troppo specialistiche e invece il mio compito è proprio questo andare a spulciare a recuperare cose che sembrano strane e che invece vanno benissimo per un'ambientazione avventurosa io vi faccio un esempio diciamo laterale e cioè quello che riguarda il grande problema di come inserire il personaggio diciamo i personaggi femminili in un contesto antico in cui noi siamo portati a credere che le donne non avessero alcun ruolo sociale e allora uno dice beh come facciamo a far giocare le giocatrici o a far agire personaggi femmine rispettosi però in una società in cui eccetera in cui di solito stavano chiuse in casa beh questa cosa non è vera cioè noi pensiamo perché così a scuola ce l'hanno propinata è anche perché le nozioni che noi apprendiamo a scuola sono vecchie cioè sono quelle che gli archeologi hanno studiato negli anni 70 e ora che arrivano sui banchi di scuola sono passati 30 anni e sono stati elaborati molto lentamente quello che invece l'archeologia via via fa è di scoprire nuovi punti di vista perché ci sono nuovi studiosi che hanno nuove idee studiosi anche femmine e quindi che hanno un interesse a imparare anche un altro punto della storia un altro punto di vista della storia in realtà le donne c'erano tantissimo nella storia antica e che non facevano un sacco di cose lavoravano le donne del popolo perché quelle ricche grazie al cielo si potevano permettere vite più comode ma le donne diciamo che non avevano molta disponibilità erano costrette a lavorare e la loro presenza è ovunque nell'antichità solo che noi non l'abbiamo saputa vedere perché gli storici hanno interesse a tramandare una parte del loro mondo che non gli sembrava importante non gli sembrava neppure interessante che questa cosa viene fuori con il gioco interessante fuori con il gioco perché il giocatore medio di Lex Arcana io vi voglio dire subito questo è espertissimo competentissimo non si può tanto diciamo propinargli cose fantastiche perché è lui che ti viene a dire no ma perché quelli fanno le bucce poi vengono a dire ma perché voi avete scritto questo perché avete detto questo che invece era così colà quindi ecco cosa faccio io io divoro un'enorme quantità di letteratura scientifica per andare cercando le cose per giustificarle per dire no guarda io ho scritto così ma questa cosa è vera perché nel non so American Journal of Archeology questo studioso ha scoperto questa cosa e l'ha scritta qua per cui io gli fornisco diciamo la base la base di riferimento che giustifica anche l'inserzione io ti ringrazio sì 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 adesso sono le sfingi sulle sfingi non posso dare va bene va bene però il resto si fa prima che Andrea ecco poi magari adesso ci riusciamo anche con Andrea mi piace molto questa storia e poi mi rilascio alla seconda domanda che vi voglio fare perché qui abbiamo l'aspetto storico che funge da punto di riferimento e anziché come limite diciamo come punto di indirizzo della narrazione questo è molto molto interessante un altro dei punti di indirizzo della narrazione che voi utilizzate quando fate fantastoria andiamo un pochino sull'aspetto più fanta dell'equazione è l'immaginario dell'epoca Andrea prima ce ne parlavi cioè ma io penso anche a Catacumbas tutti i mostri tra virgolette del bestiario di Catacumbas sono i mostri tipici della tradizione delle leggende locali eccetera qui abbiamo senza acqua che è un grandissimo esperto di queste tradizioni che ogni tanto ci buttava dentro questi mostri tipici ecco Andrea magari poi anche riallacciandosi a quello che diceva Francesca in che modo in che modo ecco stop scusate qui c'è un altro mostrino che si chiama Alexa e cose varie in che modo l'immaginario dell'epoca vi ha aiutato come l'avete messo nelle vostre opere fantastoriche come avete lavorato anche sulla percezione dell'immaginario dell'epoca in cui voi ambientate questi aspetti cominciamo da Andrea sì io da un lato appunto quelli che sono i mostri sono mostri da bestiario i demoni i poteri che siano poteri mentali non abbiamo la magia del D&D ma quelli che magari ancora qualcuno nell'esoterismo ritiene in qualche modo plausibili operativi si dice esatto e quello per il rispetto degli elementi magici mostruosi e simili anche rispetto alla storia volevo dire poi abbiamo giocato intanto col vantaggio della sagretezza per cui dovendo fare una cospirazione templare e agire in maniera nascosta possibilmente senza creare panico o senza farsi scoprire molte di queste azioni magiche o anche di complotto di modifica della storia vengono sotterraneamente e questo giustifica nel nostro caso dei cavalieri del tempio il fatto che invece la storia sia quella e sia esattamente la stessa poi la andiamo a leggere con delle chiavi diverse per cui magari Dante Leghieri faceva parte forse dei fedeli d'amore nella divina commedia negli ultimi canti mette San Bernardo al posto di Beatrice e San Bernardo ha scritto la regola dei templari c'è questa storia per cui gli ultimi canti della divina commedia sono spariti e poi sono stati ritrovati dopo un sogno rivelatore che è indicato dove erano nascosti da tutto questo noi abbiamo preso spunto da elementi se non storici leggendari ma concretamente tramandati nella storia per fare la prima avventura in cui i templari recuperano a Dante i canti della divina commedia dove c'è il fondatore dei templari tutto torna detto così ma torna con il scene dopo esatto in cui peraltro appunto parlando con Cuomo avevamo deciso che i templari dovevano aiutare Cristoforo Colombo a scoprire l'America perché i templari in realtà c'erano già stati e bisognava c'è questo in Gunther c'è questo in Gunther esatto noi abbiamo giocato con la stessa cosa nella seconda avventura per cui bisogna riprendere contatti col tempio si sono persi i contatti col tempio americano quindi tocca far scoprire l'America aiutando Colombo ci ho lavorato lungo con i nostri amici della Kunsa Agostino eccetera finalmente andiamo in stampa e mio padre fa ma tu ti informavi di Colombo e Templari sì ma lo sai che il monastero dove lui faceva gli ritiri spirituali e gli esercizi era stata una commanderia templare prima no non lo sapevo tu torna qui tu Agostino Carocci senza acqua il fanco cuomo tutti a lavorare sulla stessa materia esatto con una storia che appunto come dice Francesca ha sempre molti spunti e che possono anche per quello che riguarda gli aspetti più fantastici c'è tanto da tingere c'è tanto prendere adesso l'ultimo paradosso forse non è un gioco di ruolo ma tripodi e triplani abbiamo immaginato una guerra dei mondi nel 17 con lo sbarco dei tripodi marziani una pace fra intesa e imperi centrali per poter fronteggiare i marziani e mandare le macchine più moderne e sofisticate cioè gli aerei contro i viplani esatto un asso prima della mitragliatrice per abbattere gli altri cercava di far penzolare un ancorotto un asso russo per strappare la tela volando sopra gli avversari allora abbiamo messo questo Kazakov col suo ancorotto a un certo punto va a darpionare le zampe dei tripodi ci gira intorno cercando di farmi quindi diciamo che storia immaginario e letteratura possono fondersi chi ci può dire qualcosa l'ancorotto ce l'aveva Kazakov ed era pure abilissimo lo faceva pezzolare dall'aereo dite qualcosa a noi se mai prendetevela con Lucas se fa delle cose in più ogni riferimento a famose trilogie di fantascienza non è affatto casuale Francesca invece voi in Lex Arcana come avete da cosa avete attinto dell'immaginario latino mi vorrebbe dire romano ecco insomma dell'epoca classica la cosa che va tenuta sempre come come stella polare in Lex Arcana è l'idea di Roma l'idea di Roma è talmente vaga che non si sa definirla ma è talmente precisa che chiunque di noi ha una sua idea di Roma perché Roma è durata tanto tempo e quindi alla fine noi dentro questa enorme storia romana facciamo confluire in tanto tante epoche separate che hanno poi in effetti poco in comune perché è come se noi pretendessimo di avere qualcosa in comune con gente del 1500 500 anni fa chi lo sa pure l'impero romano ha coperto un periodo il suo impero e anche diciamo monarchia e repubblica tutto diciamo hanno coperto un arco temporale talmente ampio che si era Roma ma poi alla fine erano gente diversa però noi nella nostra testa abbiamo questa idea che c'è Roma è un po' come il concetto di film western ora l'ovest americano è stato diciamo oggetto di migrazioni o colonizzazioni insomma urbanizzazioni per tanto tempo eppure noi non è che ci chiediamo se questo film è ambientato nel 1830 o nel 1870 western a noi ci va bene la capiamo è quella tica Roma un po' così persino per noi italiani che pure la conosciamo meglio perché ce la studiamo bene a scuola ma ancora di più è per coloro che al di fuori dell'Italia e al di fuori dell'Europa addirittura pensiamo agli americani siamo gladiatore di scotta che perfino la becca riesce perfino a beccare una certa idea di Roma in quel film l'idea di Roma c'è senz'altro a me è piaciuto molto il film e alla fine quello che tu devi rispettare sempre tu creatore di giochi ovviamente è questa idea di Roma e l'ex arcana è molto è riuscita in questa in questa impresa che è quella di creare un gioco che incarna davvero l'idea di Roma pur avendoci ficcato in mezzo cose magiche lucronia insomma cose che avrebbero potuto c'era rischio di snaturarla l'idea di Roma gli autori originali sono riusciti a tirar dentro tutto e inglobarlo quello che noi dobbiamo fare adesso nel proseguimento nell'ampliamento del mondo dell'ex arcana è tenere sempre presente che quello che ci deve guidare è il rispetto non tanto della realtà storica che pure serve ma dell'idea di Roma io poi personalmente penso che più si è aderenti all'ambientazione originale cioè si mettono elementi diciamo realistici e veramente ispirati all'antichità più l'idea di Roma viene preservata però è anche vero che noi ci permettiamo di fare quello che gli americani chiamano il cherry picking cioè noi non prendiamo tutto 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 dall'antichità ma prendiamo solo tutte quelle cose che ci servono a consolidare questa idea di Roma o a espanderla secondo il nostro desiderio di creatori di giochi senza snaturarla ma venendo comodo a noi e quindi in realtà andiamo pescando dalla storia quello insomma saltando facendo finta di non vedere alcune cose e prendendone delle altre però quello che prendiamo è vero raramente si inventano cose infatti è quello che fanno tutti i game designer anche Andrea lo dirà quando fai un gioco una simulazione anche una simulazione storica quindi torniamo una simulazione vai ad evidenziare gli aspetti che ti interessano di più per i tuoi fini di quella simulazione ma vi dico una cosa posso un pochino anche gli storici fanno abbastanza la stessa cosa cioè io ho qui vicino a me nella libreria il bellissimo libro di Micamerizze sulle guerre napoleoniche lui ci sono migliaia di libri sulle guerre napoleoniche e lui ha fatto una trattazione sulla geopolitica e gli incroci anche con economia e società a livello globale dell'epopea napoleonica è andato a pescarsi gli elementi che gli interessavano di più cioè questa io la considero un'operazione più che legittima è un discorso di taglio basta essere onesti con il lettore barra il giocatore Andrea volevi dire qualcosa comunque appunto quando poi queste cose vengono scelte almeno noi come cifra stilistica le cerchiamo di fare con rigore massimo per cui quando abbiamo messo il passaggio di Annibale in un'avventura di Lex Arcana abbiamo passato lungo tempo a cercare di capire tutte le teorie anche ultime sul passaggio il ritrovamento di letame in masticce dosi su un passo anziché sull'altro il ciclo delle allacciazioni o meno per ipotizzare dove potesse arrivare la parte dei ghiacciai o no tutta roba che probabilmente appunto sarebbe superfluo potevamo prenderci delle licenze però poi c'è chi lo apprezza parecchio l'ultima cosa curiosa forse anche poi il ribaltamento del fantastico adesso non voglio fare spoiler però c'è un'avventura dove una diciamo un ente fantastico molto noto noi l'abbiamo inserito ma in realtà per dire che era una montatura e questo ci ha divertito molto perché appunto tutto sommato storicamente esisteva o no in Lex Arcana avrebbe potuto esistere come essere magico e in realtà era un era tutt'altro e lo vi invito a vedere le nostre avventure e lo scoprirete giocando una specie di debunking debunking fantastorico bellissimo fra realtà e fantasia fra magia e vero ci siamo divertiti molto a giocare più volte negli anni fantastico fantastico e vi volevo fare una domanda voi avete appunto lavorato su queste cose ma avete lavorato anche io penso ad Andrea con Angelica in cerca di Angelica sicuramente anche Francesca avrà messo altri elementi in Lex Arcana anche con l'aspetto della letteratura cioè dell'apporto della letteratura anche della letteratura fantastica ci sono elementi della letteratura fantastica dell'epoca più che dell'immaginario Andrea ha fatto in cerca di Angelica sicuramente Francesca tu ci avrei messo alcuni elementi non solo della mitologia ma anche di autori classici di ambito fantastico nelle vostre opere comincerei da Andrea o hai lavorato anche proprio su delle opere proprio specifiche inserire le opere come oggetto nel senso la divina commedia prima la citavo poi il discorso sì usarle come fonti e come ispirazione beh Cavaliere del Tempio deve molto anche a Eico a Pendolo di Foucault per quello che riguarda la cospirazione il primo volume al nome della rosa per quello che è invece appunto proprio l'ambientazione è una delle avventure ambientata nelle rovine 1333 nelle rovine di una antica abbazia disputa da un incendio chissà perché il medaglione è lasciato da un certo Guglielmo da Bastavilla che era templato e ha perso in circostanze drammatiche un medaglione bellissimo quindi c'è una citazione di un'avventura da esplorare che a sua volta è una citazione di Borges del labirinto di Borges della biblioteca di Alessandria di Borges nell'originale quindi bellissimi questi rimanti è tutto un filone di giochi letterari allora sì il gioco di ruolo di Orlando Furioso e il libro gioco in cerca di Angelo che sono puramente letterari ovviamente con un'idea ben precisa di Medioevo che è quella che ci ha portato a riosto più che dei paladini diciamo è un'idea rinascimentale del Medioevo quindi tutto all'indietro di elaborazione ma poi anche lì mi sono divertito mettere nelle scene iniziali una festa alla corte di Carlo Magno nelle scene iniziali del libro game dove c'è Alquino de York il vescovo che fa dei giochi logici su lupri capra e cavoli ed effettivamente una sua raccolta fatta per la scuola palatina di giochi logici cita l'enigma della capra del lupe del cavolo forse per la prima volta e quindi alla fine finisco per mettere citazioni storiche pure in opere fantasiose come l'Orlando Furioso che vanno a briglia sciolta un po' più come Catacombas appunto giocano con un immaginario ma senza riferimenti a luoghi che sono infatti precisi alla fine ci finiscono dentro pure loro ed è divertente anche quello Francesca voi avete preso posso pensare le metamorfosi le prime cose tra Apuleio poi Ovidio in mezzo insomma ne avete di roba guarda le cose facili sono Apuleio perché già uno che fa tutta una storia di uno che viene trasformato da una maledizione in un asino è perfetto preciso e che ha a che fare con fattucchiere e quindi bene quello senz'altro tutto il culto di Iside che viene utilizzata tantissimo in Lex Arcana quale diciamo dea della magia certo è la parte facile la parte facile è anche diciamo la naturalisistoria di Plinio dove c'è di tutto di più tutta la parte che io e Andrea abbiamo inserito nella dice uno serio come Plinio il vecchio si figura ben documentato eccetera nel modulo Italia del 97 o 98 non ricordo eccolo lui c'era tutto un sistema per lanciare per evocare le folgori e lanciarle ed erano tre tipi di folgore folgore folgori secche folgori umide folgori chiare ecco tutta questa cosa l'abbiamo presa pari pari da Plinio proprio traducendo solo il latino in italiano perché lui le chiama folgori chiare folgori secche folgori umide e proprio questo sistema diciamo con effetti diversificati quelle chiare fanno una cosa quelle umide le fanno un'altra eccetera questa cosa qua l'ha enunciata così com'è per punti Plinio noi non ci siamo limitati ad adattarla ma neanche tanto poi in realtà in realtà è stato più associarci i tiri di dado la parte diciamo di adattamento ma tutto il resto è rimasto uguale quindi Plinio vabbè una fonte inesauribile di qualunque sciocchezza ti viene in mente lui o ce l'ha oppure oppure al contrario e leggi Plinio ti vengono mille idee alle quali tu non avevi pensato e questa è la parte facile e poi scavando si trovano altre cose per esempio tutta la descrizione dell'Italia insomma dei mondi del mondo dell'impero e delle sue varie aree l'abbiamo presa da Strabone che è un grande descrittore appunto nel suo geografia e poi il mio preferito è in realtà Cicerone che è sempre serissimo ma invece ha scritto un intero saggio sulla divinazione de divinazione e in realtà lui lo scrive per e fa il debunking proprio dice ah queste sono tutte scemenze tutte queste cose le galline che razzolano in un modo e la divinazione attraverso gli uccelli eccetera e lui piano piano dice questa è una scemenza questa non funziona eccetera invece noi però sempre per quel cherry picking che dicevamo prima ci siamo presi tutta la parte iniziale dove c'era scritto tutti i sistemi di divinazione utili l'acqua le cose e le abbiamo usate ah vedete che anche Cicerone diceva che se lo dice Cicerone autorevole li elenca tutti lui no ci sono persone qui c'è Fabio che dice che ha tradotto proprio quella versione lì di Cicerone dicevo eccolo vedi vedi che serve andare a liceo classico Fabrizio Enell trovo e puoi giocare l'ex arcana mi sembra giusto dopo puoi diventare autore di l'ex arcana e Fabrizio Enell ricordava la biblioteca di Borges appunto esatto e poi un altro delle mie fonti preferite è Tacito perché sia Agricola che Germania contengono dentro talmente tante descrizioni accuratissime di come questi popoli per lui appunto stranissimi i germani e anche però i britanni perché Agricola parla tutto della conquista della Britannia questo Agricola che era il suocero di Tacito aveva conquistato tutta la Britannia ed era arrivato praticamente fino a ci sono diversi war game su Agricola c'è anche un bellissimo solitario vabbè personaggio top e comunque insomma la vita di Agricola e il Germania che di solito sono pubblicati insieme perché sono due librini e quindi poi ne fanno un unico volume quello per me è la Bibbia proprio perché su quello veramente abbiamo scritto abbiamo tirato fuori succhi bellissimi da mescolare con le nostre storie e poi ce ne sono tanti altri veramente insospettabili per esempio Apicio de Re Coquinaria che non solo dà le ricette ma nell'ex Arcana ci sono anche ricette antiche che si possono interesserebbe benedetta questa cosa ma infatti io nel grande diciamo volume di ambientazione che è l'Enciclopedia Arcana c'è qua e là sparsi nei vari capitoli anche delle ricette che sono state pure scelte attenzione non solo perché erano antiche ma perché erano facilmente riproducibili e soprattutto si potevano anche mangiucchiare c'è molto quello che chiamiamo adesso finger food si possono mangiucchiare durante le sessioni di gioco fantastico metà gioco si che uno può giocare mangiando le cose che nell'antichità si sarebbero effettivamente mangiate nelle taverne gli alimenta digitalia ecco appunto i finger food diciamo che tutto serve a sviluppare il gioco il De Bello Gallico naturalmente si uno tutto quello che noi vogliamo sapere sui druidi poi fondamentalmente anche lì è finito in Britannia ma quella roba là l'ha scritta Cesare e quindi la cosa diciamo che va sempre tenuto presente è che come diceva Manzoni e ci aveva ragione cioè nella storia umana ci sono talmente cose tante cose fantastiche che non è necessario neppure andare a cercarle da altre parti né inventarle quello che dobbiamo fare noi è avere l'occhio a capire qual è la cosa che ci serve cosa può essere interessante anche se noi magari non ci abbiamo mai pensato come può essere volta a una interpretazione giocosa diciamo ludica e anche diciamo quali sono quelle che hanno diciamo una spiegazione una iniziazione comprensibile perché tante volte invece sono un po' criptiche ma insomma che a noi invece servono al contrario come direbbe Andrea sono proprio le cose criptiche che ci aiutano perché lì dove manca diciamo la chiave di accesso ce la possiamo mettere noi oppure dove le pagine della storia mancano e ce ne sono tante di pagine mancanti nella storia le scriviamo noi le inseriamo nella sequenza in maniera che nella narrazione si può venirci a smentire come la scomparsa non so della nona legione che a un certo punto se ne è uscita e è forte di Eburacum andò verso nord e poi sparì e c'è tutta c'è tutta una letteratura lì dentro in ambito anglosassone ho letto dei bellissimi libri e ho letto ho visto anche un film sempre su questo argomento c'è anche diverse puntate del Dottor V che in Inghilterra è rimasta questa cosa sulla legione perduta sì 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 assolutamente e sono affascinati poi in realtà la cruda verità era che semplicemente fu smembrata riaccorpata e fu cambiato nome una roba burocratica quindi gli si vede un altro nome eccetera cosa che normalmente non si faceva poi in realtà e quindi quello è un po' strano senti Francesca ma noi non lo vogliamo sapere questa cosa ci rinunciamo a prendere atto che è uscita dal forte di Eburacum e poi è scomparsa nella parte della scuola e a noi va bene così e a noi ci piace così e ci possiamo scrivere sopra un sacco di avventure poi c'è tutto il discorso sulla legione in Cina anche la legione perduta in Cina arriveremo pure lì pure lì allora io allora prima di lasciare poi un attimo che adesso siamo un po' verso le battute conclusive poi anche la parola al pubblico agli amici del pubblico se vogliono fare delle domande delle impressioni eccetera e vedevo Andrea che armeggiavi con dei libri quando tu prendi il dizionario dei giochi che hai scritto con Beniamino Sidoti so che sta per arrivare qualcosa no ma era solo perché appunto Cicerone che combatte le superstizioni e noi ne approfittiamo per propagarle mi ricordava di spettare una lancia a favore dei censori ci sono dei giochi di dadi che abbiamo messo nel dizionario adesso non ritrovo il riferimento che sarebbero estinti giochi dell'estremo oriente se non fosse stato per un colonnello della polizia inglese che per reprimerli ha fatto il manuale elencando puntigliosamente tutte le regole in modo che i poliziotti potessero riconoscerli e debellarli e così ne ha perpetrato la memoria sono arrivati fino a oggi io me li sono rivenduti in vari libri riviste nel dizionario e grazie a lui che voleva sopprimerli sono ancora vivi i vegeti e riprodotti ma anche e a coloro che scrivono ma anche tornando nell'ambito templare Bernardo che scrive la regola templare la famosa regola che non devono giocare alla campana gli escascione eccetera i cavaliere eccetera ci ha dato un'adattazione che almeno all'epoca di Bernardo quei giochi c'erano venivano giocati anzi venivano giocati spesso anche il fatto che per esempio gli scacchi erano un gioco d'azzardo perché all'epoca si giocava anche a scommessa sugli scacchi quindi anche queste cose queste fonti secondarie e secondo me alcune parti delle cose che voi avete utilizzato io non ve lo voglio dire che diventerete delle fonti storiche di qui a qualche secolo però qualcuno ripescando certi manuali secondo me un po' un lavoro come noi stiamo facendo su certi sesti del 5-600 lo farà i cavalieri del tempio li ho trovati in nota in un sito serio sui templari ma soprattutto piccolo aneddoto ho collaborato con una rivista di un editore con tantissime riviste di enigmismo mi hanno dato una rubrica del tipo incredibile ma vero mi hanno chiesto di fare anche un po' di cose storiche in questa rubrica a un certo punto per aiutarmi mi hanno mandato una serie di annotazioni storiche sull'antico Egitto tratte dalla rete mi hanno spettito forse quelle possono essere utili da usare in questi aneddoti e curiosità le guardo erano tratte dal sito Reel le avevo scritte io erano una parte di approfondimento che non trovando posto nel volume erano state messe in rete e mi sono tornate come un classico lo stesso da usare come roba seriamente storica un classico io ricordo anche anche nell'ambito di questi giochi che poi prendono spunto dalla letteratura in un certo immaginario c'è anche adesso un fenomeno un gioco di volo un altro che si chiama Brancalonia che è molto interessante perché poi prende a metà tra Brancaleone e il romanzo picaresco quindi ci sono molte cose ci riporta a quel meraviglioso film che io ricordo sempre Ettore Filamosca ma è quello fatto da Bud Spencer quindi che questa idea molto picaresca di un certo concetto di primo rinascimento basso medioevo eccetera Brancaleone era ancora più indietro era alto medioevo però insomma questo concetto un pochino confuso però molto interessante di questa di questa epoca di questa visione storica Brancalonia è pubblicato dallo stesso Acheron che pubblica anche la Cisarcana che pubblica anche il Tempo della Spada che invece è un GDR storico fatto e finito la storia e il gioco si incastrano molto bene nel GDR poi particolarmente non so se dal pubblico avevamo delle domande se gli amici del pubblico possono alzare la mano altrimenti andiamo verso la conclusione e no diciamo vedo poi se qualcuno poi dopo vuole e un ultimissimo giro abbiamo ancora una decina di minuti secondo voi da punto di vista appunto sia di ricercatori storici come siete autori di giochi eccetera ci sono dei punti di contatto tra simulazione storica e fantastica a parte che voi lavorate sui punti di contatto tra simulazione storica e fantastica proprio come approccio io qui un'ultima domanda un pochino più sul metodo che sui contenuti Andrea la ricerca storica la ricerca che tu fai per Wings of War Barra Glory e Cavaliere del Tempio Lex Arcana è identica a parte appunto forse leggermente più ampia quando vado a cercare anche il fantastico però appunto sto chiudendo ora un libro gioco sulla Firenze del 1464 per un progetto nelle scuole e insomma ricordo anche i tuoi progetti sulle catacombe romane e tutto quanto insieme abbiamo fatto i misteri delle catacombe che è un libro gioco non è stato citato perché è storico rigorosamente è un fantastorico il tipo di ricerche fatte con Francesca anzi da Francesca sono state direi analoghe a tutte quelle che riguardano gli aspetti storici di Lex Arcana così come per questo libro gioco sto ripercorrendo e riaggiornando e riciclando tutte le ricerche fatte per i cavalieri del Tempio le suggestioni le informazioni sono le stesse volendo fare le cose con un certo rigore poi appunto ci si innesta più quello che è il fantastico Francesca appunto misteri delle catacombe si è altro per quanto mi riguarda la ricerca è proprio la stessa cioè io la faccio sulle stesse fonti sugli stessi siti cioè in realtà io consulto sempre le riviste specialistiche di settore eccolo e quindi diciamo vado verso vari aggregatori io uso Jstore però poi ce ne sono altri e leggo tonnellate ma veramente credo che leggo più letteratura scientifica adesso di quanta non le leggessi quando ero all'università o alla scuola di specializzazione dove leggevo solo quella che mi veniva accolata e invece adesso leggo tantissimo perché appunto un po' vado cercando le cose nuove le cose che non diciamo sono meno note che invece potrebbero essere inserite in uno dei volumi di Lex Arcana oppure vado cercando diciamo giustificazione a cose che qualcuno mi ha chiesto perché sempre i famosi giocatori di Lex Arcana espertissimi spesso se ne vengono fuori con delle domande tecnicissime che richiedono per me una certa ricerca storica proprio storico uno per esempio mi chiese una volta chiese una volta nella pagina facebook come si faceva nell'antichità a stabilire l'identità di una persona perché lui aveva ovviamente necessità di fare una storia per cui c'era uno che si spacciava per un altro e si chiedeva giustamente come si fa a essere diciamo a riconoscere qualcuno o perlomeno come fa uno a passarsi per un altro senza correre il rischio di essere smascherato sembra una domanda così anche un po' banale nell'antichità capirai non c'erano i carti di identità ma invece poi ho scoperto per andare appunto a documentarmi che invece no c'erano dei sistemi chi era stato nell'esercito era inserito in ruolini dell'esercito e quindi c'era sempre un'origine di entrata nell'esercito uno spostamento c'erano dei registri dei censi che erano piuttosto accurati altre persone diciamo che non erano nell'esercito erano diciamo inserite comunque nel sistema famiglia che era un sistema socialmente riconosciuto e quindi sapere che uno era di una famiglia figlio eccetera era anche quello non era difficile farsi passare per un altro certo se tu eri nato a Roma e poi te ne andavi in una città della Siria in una piccola città della Siria può essere che ti facevi passare per un po' per chiunque però ma anche adesso anche adesso se hai diciamo a chi controllava quella o comunque chi era l'autorità di riferimento nella piccola città si faceva venire un dubbio aveva modo di fare delle ricerche e risalire alla tua vera identità quindi in realtà poi alla fine ho studiato una cosa che non sapevo neanche io che diciamo è stata chiesta per uno scopo di gioco ma era una domanda molto intelligente che richiedeva ricerca per essere poi risposta in maniera accurata quindi in realtà il tipo di ricerca che io pratico per la finzione storica o per scrivere un articolo è per me esattamente la stessa stesse fonti stesso tipo di ricerca stesso approccio molto interessante e mi piace molto appunto queste commissioni lo sapete quindi veramente ma anche il rigore io lo ripeto dall'inizio voi ci avete dato un'idea di rigore storico che non è limitativo ma è anzi un'ispirazione un'ispirazione anche per il vostro lavoro e il vostro lavoro a vostra volta avvicinati molti all'aspetto storico che dice ok adesso ho giocato in Lex Arcana ho giocato nei Cavalieri Templari nei Cavalieri del Tempio eccetera adesso vediamo anche però anche le altre tipologie vediamo un pochino affacciamoci un po' anche alla storia tra virgolette reale insomma almeno la nostra percezione di storia perché anche questo ne abbiamo parlato bene io vi ringrazio tantissimo grazie per essere stati qui con noi come sapete noi qui su Ludo Storia il fantastorico fa assolutamente parte degli interessi nostri e vi ringraziamo sempre per il magnifico lavoro e so che Andrea sarà impegnato con altri eventi il gobbo maledetto eccolo qua con Gregory Alecci che è il marito di Francesca che sta lì in quella stanza non si vede ma so che ci sta seguendo in quella stanza lì nello stesso studio quindi come vedete tutti questi intrecci bellissimi poi Francesca quando vuoi poi dopo ne riparliamo poi io già vi dico organizzeremo delle giornate specifiche dopo questa convention nel corso dell'anno ne faremo una anche sul gioco di ruolo storico e fantastorico oppure una giornata dedicata proprio alla fantastoria quindi assolutamente vi rivoliamo qui questa volta come magister come ludi magister come si diceva ai tempi di Catacumbas io sempre bestale o bestale bestale dell'ortodossia assolutamente sia mai io vi ringrazio molto ringrazio tutti grazie a voi grazie grazie Andrea ci rivediamo in giro su server grazie per essere stati con noi ricordo che questa conferenza come tutte sarà poi dopo messa in differita sul canale youtube di ludostoria un salutone a tutti e adesso cominciamo la prossima grazie a tutti la prossima sala son zoo con Sergio Masini e Marco Lunadoni international team è per gioco grazie grazie ciao a tutti grazie ciao 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 ciao